Musica Salve a tutti i telespettatori di LACU TV e del Capoluogo, ben ritrovati nei nostri studi, negli studi non solo calcio per una nuova puntata, una puntata nella quale celebreremo una bella stagione disputata dai colori nero-verdi, il mio abbigliamento diciamo un po' lo anticipa, i colori nero-verdi della Rugby L'Aquila. Abbiamo qui con noi infatti il presidente della Rugby L'Aquila, Mauro Scopano, bentornato Mauro. Buonasera, buonasera e grazie di questa assoluta ospitalità, anche la MIS richiama i colori sociali della città. Esatto, esatto, non succede spesso, diciamo che essendo il verde è uno dei miei colori preferiti, allora diciamo che abbiamo approfittato. Dico bentornato a Mauro Scopano perché già l'anno scorso in prossimità della promozione nella nuova serie ci eravamo sentiti, eri stati ospiti appunto a denisto di non solo calcio proprio per raccontare di questo progetto della Rugby L'Aquila che passa attraverso tanti aspetti, cioè passa attraverso non soltanto l'aspetto della squadra, quindi del campo, di quello che si gioca ma anche della casa dove si gioca, quindi del fattore con diversi interventi che voi avete fatto anche sul fattore rendendolo disponibile diciamo e aperto un po' a tutti e questo è un aspetto sul quale poi approfondiremo nella seconda parte della trasmissione. In questa prima parte di trasmissione però ti volevo chiedere che stagione è stata? Una stagione un po' altalenante questa? Sì, sportivamente parlando è stata una stagione in linea con quelle che erano un po' le aspettative, cioè siamo partiti con il freno a mano tirato ma perché è stato un progetto nuovo quello di quest'anno dal punto di vista sportivo, fondamentalmente quella che era l'impianto dell'anno scorso è stato un po' smantellato perché l'anno scorso hanno contribuito diciamo per la maggior parte uno zoccolo duro di ragazzi che si sono rimessi a disposizione per l'ennesima volta ma hanno potuto dare un contributo veramente molto limitato per cui quest'anno non dico che sia ripartiti da zero ma sia ripartiti dal basso comunque per cui i primi mesi abbiamo sofferto molto questa amalgama che è stata un po' ricercata poi con il lavoro, con gli allenamenti, con le partite tra quelli che erano diciamo i nuovi acquisti tra virgolette diciamo così o i ragazzi che si sono aggiunti diciamo al gruppo squadra rispetto un po' a quello che era il telaio fatto dai ragazzi più giovani che invece hanno confermato la loro presenza anche per questa stagione quindi gioco forza c'è stato un momento di amalgama che si è reso necessario per cui i primi mesi, la prima parte della stagione è stata molto difficile da questo punto di vista come tutti i progetti che sono in fase di start up diverso è stato il discorso poi nel girone di ritorno dove invece per chi ha avuto la fortuna come me di poterlo vivere direttamente dall'interno c'è stato proprio una trasformazione totale di questo gruppo che si è unito, si è formato, si è consolidato e noi oggi possiamo dire di avere una squadra e questo penso sia il messaggio più bello che mi sento di lasciare appunto ai nostri tifosi e alla città. Poi sportivamente ci sono stati comunque degli alti e bassi anche in questa seconda fase del campionato ma legati più che altro a una questione proprio mentale, di approccio, di mentalità vincente che va costruita purtroppo nello sport, io adesso non ho un'esperienza sul rugby ma più o meno tutti i sport di squadra hanno lo stesso imprinting la mentalità vincente va costruita e va metabolizzata va potenziata durante gli anni questo un pochino ci manca ancora ma ripeto siamo soltanto al primo anno di lavoro per cui sarebbe stato un po' strano l'inverso soprattutto perché noi appunto puntiamo tutti sui ragazzi dell'Aquila, sui nostri ragazzi non è che abbiamo dei professionisti che magari hanno già un approccio diverso per cui puntiamo proprio tutto sulla costruzione del gruppo e sull'unità, sull'affiadamento quindi diciamo che sportivamente ci siamo tolte anche belle soddisfazioni abbiamo fatto bellissime prestazioni, non da ultimo quella con la Rugby Roma anche se poi ci ha visto soccombere per qualche punto però fondamentalmente abbiamo sciorrinato una prestazione tra virgolette all'altezza paritetica rispetto a quella che poteva proporre una squadra di Serie A perché la Rugby Roma comunque ha dimostrato di meritare la Serie A e l'anno prossimo dispoderanno un campionato di Serie A le immagini che stiamo vedendo adesso sono quelle riferite alla partita alla penultima partita di campionato con il Messina abbiamo scelto queste perché sono quelle con le quali voi vi siete congedati dal fattore per quanto riguarda quest'anno il fattore che, lo dicevamo, la casa del rugby aquilano che sta tornando a vivere anche con la partecipazione del pubblico è bello vedere il pubblico sugli spalti a sostenere la rugby l'Aquila questo penso che sia un altro fattore in più un altro punto in più di questa stagione Sì, assolutamente, ma questo io ne sono convinto che ci vorrà soltanto il tempo ci vorrà la credibilità che soltanto la società può trasmettere soprattutto sulla base degli ultimi esperienze negative che si sono un po' avvicendate su questo sport e su questa squadra quello appunto sono convinto che riavvicinerà un po' tutti i tifosi allo stadio però come dicevi tu, un elemento molto importante che mi piace sottolineare perché è un po' il mio cavallo personale di battaglia è quello di riqualificare lo stadio, i fattori cioè i fattori, io ci sono cresciuto come penso tanti o tutti diciamo della mia generazione o giù di lì per cui per me è un aspetto fondamentale che non può prescindere da qualsiasi progetto sportivo tra l'altro i fattori è un monumento della città è un monumento posizionato al centro della città e come tale deve essere un valore aggiunto io ti posso confermare tranquillamente che tutti i ragazzi che sono venuti a giocare allo stadio la prima cosa che fanno è che si fanno le foto entrano, si fanno le foto, qualcuno si fa il video mentre si passa sul sottopassaggio e si esce il campo e poi si ha proprio questo scenario fantastico Infatti se tu lo osservi è decisamente moderno per essere uno stadio costruito quando è stato costruito cioè come dire adesso è instagrammabile il fattore è instagrammabile decisamente e qui rientra anche il vostro intervento diciamo perché negli ultimi giorni, nelle ultime settimane queste ultime settimane di scuola voi state portando avanti un progetto che è proprio quello di far conoscere il fattore alle generazioni più giovani di Aquilani quindi stanno arrivando nel fattore insomma al fattore alcuni bambini, alcuni ragazzi diciamo dalla scuola primaria fino alle scuole diciamo alla scuola media di diversi istituti del territorio io ho segnato il comenio di Scoppito anche le maestre più ai filippini però mi dicevi New Entry quindi pochissimi giorni fa sono venuti anche dei bambini della Giovanni XXIII qual è la loro reazione quando entrano allo stadio? la loro reazione è di entusiasmo puro cioè immaginiamo un bambino che gli si può dire fai quello che vuoi quindi chiunque di noi può provarlo a casa basta prendere un bambino e gli si dire oh puoi fare quello che vuoi perché questo è un po' il concetto che stiamo trasmettendo come hai detto tu il fattore è centrale proprio per la città dell'Aquila perché tante generazioni l'hanno identificato come un luogo sociale è stato l'unico stadio della città per tanto tempo noi ce lo ricordiamo tutti le partite più importanti di calcio partite internazionali di rugby arrivi di giro d'Italia quindi è importante poter far conoscere alle generazioni future quello che è un patrimonio loro tra l'altro perché quello è un patrimonio della città e noi ci siamo resi conto di questa cosa al di là del rugby, del discorso rugby i bambini da 2010 in avanti non sanno che c'è lo stadio all'interno di quelle mura questo te lo posso certificare io in prima persona perché la prima cosa che chiedo a tutti i bambini quando vengono per presentare un po' quella che è la giornata all'interno del fattore gli chiedo se sapevano se avevano modo di aver già messo piede quella struttura e ti dirò che su una base statistica già abbiamo portato più di 300 bambini quindi già è una base consolidata e attendibile diciamo il 10% sa che c'è uno stadio o sa ancora meno un sotto insieme che c'è stato per cui per me questa è una sconfitta un po' di tutti noi perché ripeto è come dell'identità cittadina cioè noi aquilani non possiamo non trasmettere questo tesoro questo senso di appartenenza che ha arricchito un po' tutti noi perché ripeto noi lì ci abbiamo passato i momenti più belli sportivamente parlando della città quindi lo dobbiamo trasmettere ai nostri bambini poi che magari facciano altre scelte a livello sportivo assolutamente giustificabile però almeno le radici bisogna valorizzarle e conoscere ripeto questa è la cosa che mi ha dato più soddisfazione fino ad oggi l'ho già detto pure in altri contesti da quando abbiamo iniziato questo progetto cioè vedere ma non è che c'è da scoprire qualcosa cioè i bambini quando gli dà la possibilità di stare lì all'aria aperta giocare eccetera i telefoni, i tablet non esiste più nulla si dimenticano tutto lo possiamo vedere anche in qualche immagine perché poi voi sulle vostre pagine social avete pubblicato qualche foto qualche immagine di questi incontri eccoli qua a parte tanti cioè veramente tanti arrivano eccoli qua giocano si divertono si si ma li fate allenare sono molto bravi ma li facciamo allenare in una maniera divertente giocosa ovviamente non abbiamo un impianto finalizzato all'acquisizione tecnica diciamo così dei ragazzi ma semplicemente al fatto di divertitevi oggi state qua dovete tornare a casa e dovete ricordare questa giornata questo è il nostro obiettivo e ti ripeto credimi il 100% di successi cioè grazie anche ai collaboratori alla collaborazione scusami dei ragazzi della squadra che si sono messi a disposizione ringrazio Orge Suarez ringrazio Nico Breia ringrazio Simone Petrolati Andrea Pierinferni Gianluca Bologna Simone Alfonsetti non voglio dimenticare qualcuno mi dispiace Francesco D'Antonio che hanno messo il loro tempo a disposizione di questi ragazzi per farli divertire per farli ricordare di questa giornata io ti posso dire che i primi frutti si vedono già la domenica perché la domenica trovi 10-15 bambini di quelli che hanno partecipato a questa giornata formativa formativa con i genitori esatto con loro famiglie perché si sono trovati bene certo diventa una catena poi per me è una soddisfazione veramente unica questa qua perché ripeto è la conferma che la strada è quella giusta cioè noi dobbiamo ripartire da lontano dobbiamo ripartire dai giovani perché sono loro il futuro e dobbiamo rivitalizzare quello stadio dobbiamo riportarlo appunto ad essere un punto d'incontro un punto a disposizione della città e proprio per questo stiamo pensando di realizzare tante iniziative anche durante il periodo estivo che magari è un periodo un po' più scarico di impegni organizzando qualche partita importante qualche evento internazionale organizzando anche delle attività allo stadio per esempio un intervento molto importante è quello della riqualificazione dell'headwall o di utabellone come lo chiamiamo qua all'Aquila che è meglio si capisce meglio e lì abbiamo messo un monitor di ultimissima generazione lo utilizziamo ovviamente per veicolare tutta la comunicazione commerciale all'interno dello stadio e anche questo ma anche per fare le congratulazioni ad esempio l'Aquila 1927 mi ricordo che quando c'è stata la promozione si esultava anche su Utah Bellò assolutamente quindi diciamo è uno strumento a disposizione di tanti là c'è stato un tempismo perfetto perché credo sia stata forse la seconda partita che utilizzavamo nel tabellone quindi fondamentalmente è stato un modo bello penso per poter augurare anche all'Aquila Calcio insomma quello che dare merito a quello che è stato tutto il lavoro che hanno fatto i ragazzi di amici dell'Aquila Calcio tra l'altro l'Aquila Calcio lì ha scritto le pagine i fattori le pagine migliori della storia l'ha scritta là quindi un pezzo di quella storia appartiene anche all'Aquila Calcio per cui insomma ripeto è bello è molto bello abbiamo tante idee abbiamo tanta voglia di ancora fare migliorare di costruire qualche giorno fa c'è stato un incontro in federazione con il presidente Innocenti della FIR appunto presidente della FIR Innocenti e si parlava degli impianti e noi ci siamo ripreso l'impiegno proprio di adeguare e portare il fattore a quello che è un livello internazionale così che poi non avranno più scuse per poter portare partite di livello internazionale come merita l'Aquila allo stadio fattori quindi noi ci siamo presi questo impegno lui si è preso l'impegno poi di portare questi eventi allo stadio fattori penso che la città lo meriti detto francamente perché la struttura è una delle strutture parliamo di impianti regbistici quindi dedicati esclusivamente al rugby più belli in Italia non voglio essere troppo partigiano per dire il più bello però è quello che penso però ripeto va un attimino ancora rinnovato adeguato questo è vero però anche in sinergia con quelli che sono poi gli interventi che sta prevedendo il comune che spero partino veramente a giorni si riesca a ridare ecco una struttura adeguata e sicuramente moderna alla città per poter ospitare eventi di queste dimensioni quando parli di renderlo più moderno a che cosa fai riferimenti in particolare? C'è una questione legata non so agli spalti o questione legata alla sicurezza l'illuminazione? allora sicuramente beh a parte in questo caso non parliamo di modernità ma parliamo proprio di fabbisogno minimo essenziale che è quello di ripristinare quello che è l'impianto illuminazione delle torri faro che manca perché sono state rimosse e vanno ripristinate ma quello è un impegno che si è preso il comune e ripeto spero che lo concludano a quanto prima insieme appunto a una riqualificazione della pista perché la pista di ciclismo diciamo così è totalmente andata in diciamo in rovina assolutamente quindi quella va proprio rimodernata quanto meno risistemata però anche lì hanno stanziato delle risorse diciamo fattori work in progress no quando parlo di modernità invece per rispondere alla tua domanda io mi riferisco a una vera clubhouse a un vero diciamo spazio dedicato all'accoglienza degli sponsor quindi degli skybox che siano ospitali che permettano poi effettivamente di fare relazioni fare conoscenze fare un certo tipo di pubblicità chiamiamola così volgarmente però è fondamentale creare appunto degli spazi adeguati che oggi non ci sono noi ripeto stiamo lavorando su un progetto per presentare da presentare al comune per rappresentare proprio queste queste nostre volontà questo va fatto ma sono cose che ci stanno all'interno di uno stadio anche storico come quello che è il fattori quindi non è che vogliamo snaturarlo no vogliamo semplicemente ripristinarne la funzionalità per quello che c'è adesso e completarlo per poterlo rendere tra virgolette ancora più vivibile ancora più utile alla causa degli sport non soltanto magari della rugby d'aquila esatto che stagione sarà la prossima voi siete già al lavoro immagino perché appena finita una stagione subito si ricomincia a pensare a quella successiva noi siamo sempre al lavoro non vi ripostate mai siamo sempre al lavoro in questo senso come società già abbiamo diciamo organizzato un po' quelli che sono i tempi sia sportivi che non quindi ripeto per quanto riguarda la programmazione estiva noi abbiamo già stilato un programma però non mi va di anticiparlo perché purtroppo ancora necessità di alcune autorizzazioni che fin quando non abbiamo la contezza non posso tra virgolette impegnarmi poi per per delle cose che magari poi non possono essere realizzate per cui però ne abbiamo diverse di te di programmi da poter realizzare da qui appunto a quando ripartirà la prossima stagione dobbiamo completare ecco una cosa che questo invece mi sento già di poter prendere come impegno è quello di riqualificare un po' tutto il settore distinti ad oggi sono inagibili per via di alcuni problemi legati all'ingresso al settore che però anche lì il comune dovrebbe sistemare e io vorrei appunto una volta ottenuta la proroga della gestione che abbiamo già richiesto al comune almeno per un anno poter completare i distinti e renderli speculare un po' alla tribuna parlo a livello di comodità ecco di sedi linee eccetera quindi oggi sono ancora un po' così lasciati ovviamente senza manutenzione per cui ripristinare quell'area significa poi magari dare più fruibilità allo stadio per il periodo invernale perché sappiamo che la tribuna del fattore penso sia uno dei posti più freddi d'Italia per non dire il più freddo d'Italia e quindi dare la possibilità almeno quando non piove ai tifosi di andare sui distinti è uguale a dire venite allo stadio che si sta meglio insomma si sta bene al fattori purtroppo la tribuna non so per quale motivo ma è veramente durante il periodo invernale invivibile per cui ecco questo già è un impegno che mi sento di prendere però sportivamente parlando invece lì stiamo lavorando con lo staff tecnico entro fine maggio appunto presenteremo tutte le diciamo la struttura sia per quanto riguarda la struttura dello staff la struttura del 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 medico quindi la struttura medica la struttura societaria perché anche a livello societario abbiamo consolidato un po' quello che può essere l'organigramma piano piano stiamo crescendo quindi queste tra virgolette novità le potremmo esporre ecco fra una quindicina di giorni per cui dobbiamo essere pronti e dobbiamo partire per l'anno prossimo con il piglio giusto perché l'obiettivo ovviamente è quello di migliorarci noi quest'anno abbiamo chiuso al sesto posto quindi almeno il quinto posto lo dobbiamo raggiungere l'anno prossimo sempre fare diceva anche Roberto Nardecchia nella puntata precedente di Non Solo Calcio sempre fare un gradino in più almeno un gradino in più esatto allora ci si impegna per salirne un in più almeno esattamente d'altronde quest'anno insomma per quanto mi riguarda anche sportivamente ripeto al di là degli alti e bassi tutti i problemi che ci sono stati ma abbiamo raggiunto un buon abbiamo fatto veramente un buon campionato perché anche con le squadre che ci sono arrivate sopra se andiamo a vedere gli scontri diretti che abbiamo fatto nel girone di ritorno abbiamo sfoderato delle prestazioni veramente importanti con tutte le squadre che ci precedono quindi insomma è un segnale anche di autostima e di consapevolezza un po' di quello della propria valore e dimensione esatto stiamo lavorando per consolidare l'organico perché questo purtroppo è stato uno dei problemi principali di quest'anno noi non dimentichiamo che siamo andati a Messina in 13 in 14 in 14 13 era un direttore tecnico che fondamentalmente non dovrebbe stare sul campo quindi abbiamo avuto dei momenti di difficoltà enorme legato proprio alla alla rosa che non era abbastanza consistente ecco quindi questo sicuramente è il primo obiettivo da consolidare ma stiamo lavorando per farlo e farlo bene e poi insomma ripeto lo staff che abbiamo è di assoluto livello per cui confidiamo proprio una crescita importante ecco della squadra e del progetto non mi piace sottolineare questo aspetto la Rugby Roma che quest'anno ha vinto il campionato e ha tornato in Serie A dopo 16 anni attenzione la Rugby Roma ricordo che è l'ultima squadra con cui l'Aquila ha giocato una finale scudetto nel 2000 ha giocato una finale scudetto con Caione Carlo Caione che era il capitano della Rugby Roma a Roma perdendolo noi purtroppo e poi da lì la Roma ha iniziato un declino importante ha avuto insomma problemi societari e quindi ha avuto un declino e per tornare in Serie A ci ha messo 16 anni quindi noi stiamo al secondo anno e stiamo già a un buon livello secondo me di competitività ripeto per cui ripeto che anche sportivamente parlando possiamo essere soddisfatti del lavoro fatto lavoro fatto e lavoro da fare che ce n'è tanto ma d'altro canto insomma il progetto ha gambe belle solide insomma lo state sottolineando già da un anno insomma già da un anno a questa parte quindi vi auguriamo un buon lavoro sia per quanto riguarda il fattore insomma che sta tornando piano piano ad essere un modello e al tempo stesso un gioiello per la città e dobbiamo tutti di esserne fieri sia chiaramente per la vostra squadra alla quale facciamo i migliori auguri di buon lavoro che si fa soprattutto in estate lo sappiamo il lavoro va preparato molto per tempo quindi grazie allora Mauro Scopano per essere stato qui averci spiegato un po' anche dirlo le quinte di quello che c'è stato in quest'annata della Rugby l'Aquila grazie davvero grazie a te grazie per l'invito è sempre un piacere è sempre un piacere poter condividere queste cose con te e insomma con tutta con tutta la città ecco anche perché c'è tanto interesse l'abbiamo detto anche prima c'è tanto interesse da parte della città nei confronti del rugby cittadino anche con il bellissimo risultato del Paganica Rugby insomma diciamo che la Pallovale sta tornando ad essere protagonista anche le cronache sportive quelle belle quelle che si raccontano sì sì consentimi veramente in questo senso di fare i complimenti miei sia personali che come presidente della rugby l'Aquila agli amici di Paganica perché conosco molto bene Antonio Fausto Sergio tutto l'ambiente e posso dirti che è un bellissimo ambiente e conosco da tanti anni e lavorano lavorano molto bene ecco quindi è un risultato che meritano e che non è venuto a caso sicuramente non è un risultato che è venuto per caso ma è il frutto di tanti anni di lavoro e questo anche per noi deve essere un 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 segnale diciamo un segnale per dire questa è la è la strada giusta che prima o poi i risultati vengono bisogna semplicemente semplicemente lavorare tenere duro e con umiltà ecco andare avanti giorno dopo giorno e mettere un tassello dopo tassello grazie allora grazie a Mauro Scopano grazie a tutti voi che ci avete seguiti in questa puntata di Non Solo Calcio alla prossima grazie a tutti